Bentornati e bentornate qui su LR Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Oggi parleremo di tre categorie all'interno delle quali andremo a posizionare tutti quegli errori di stile che ci fanno sembrare sciatti, a volte molto cheap, a volte poco eleganti e poco raffinati, nonostante magari l'idea era proprio quella opposta, ovvero quella di sembrare raffinati ed eleganti, quindi se volete sapere quali sono queste tre categorie all'interno delle quali si posizionano praticamente quasi tutti gli errori di stile che facciamo, ovviamente non vi rimane altro da fare che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò qui su LR Channel, a meno rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene, innanzitutto vi do il benvenuto in uno di questi video perché in realtà era da un po' che non facevo questi video, le dieci cose che le... volevo fare un video su dieci errori di stile, in realtà nel momento in cui ho iniziato a scrivere questo video, sapete che io praticamente scrivo tutto, vedete dieci errori di stile, nel momento in cui appunto ho iniziato a scrivere questi errori, mi sono resa conto che in realtà gli errori di stile possono essere infiniti e possono essere tutti inseriti all'interno di tre categorie principali di cui andremo a parlare proprio in questo video. Allora, la prima categoria la intitoleremo Le misure contano Perché le misure contano? Perché in realtà uno degli errori di stile più comune e che facciamo bene o male tutti o tutti abbiamo comunque fatto almeno una volta nella vita è proprio quello di non valutare nella maniera corretta la misura di che cosa? Di ciò che andiamo ad indossare, di ciò che portiamo Possiamo parlare di misure rispetto all'abbigliamento, alle scarpe, ma anche ragazzi agli accessori, ai capelli Per esempio, portare i capelli troppo lunghi appesantisce la figura A seconda della nostra altezza e del nostro baricentro, quindi a seconda anche di dove si posiziona il nostro punto vita A seconda delle nostre forme, quindi se abbiamo le spalle molto larghe, molto strette, se abbiamo il collo alto, se abbiamo le spalle sute Oppure se abbiamo i fianchi molto larghi, molto stretti, eccetera eccetera Ci starà meglio una misura di capelli, quindi una certa lunghezza di capelli Oppure ce ne starà meglio un'altra Vi dico questo perché io ho sempre amato i capelli lunghissimi Però se devo dire la verità, quando sono così tanto lunghi come quando mi metto le extension Non mi valorizzano così tanto come quando arrivano per esempio a metà schiena e magari appena appena alle spalle davanti Ecco, quella è la misura della capigliatura che sta bene per una persona che ha le mie proporzioni, che ha la mia altezza, eccetera eccetera Al di là del gusto personale, che ci può piacere o meno Ognuno di noi dovrebbe imparare a valutare le misure in proporzione al proprio corpo Ma vi faccio un altro esempio che probabilmente tante di voi non hanno mai pensato e sul quale non hanno mai riflettuto La misura della borsa La misura della borsa è importantissima perché? Perché se portiamo una borsa troppo grossa rispetto alla nostra figura Inevitabilmente sembreremo più piccole, più tozze, più accorciate Oppure se portiamo una borsa troppo piccola potrebbe completamente scomparire dal nostro outfit Proprio perché è mangiata dalla nostra fisicità Quindi lo stile in pratica che cosa richiede? Richiede l'abilità di capire qual è la misura che ci dà valore Quindi ragazzi, scegliere la misura giusta che non sia né troppo grande né troppo piccola Per la propria fisicità A partire dai vestiti fino alle scarpe, gli accessori, abbiamo visto la borsa ma anche i capelli eccetera eccetera Vi permette di valorizzare tantissimo la vostra figura e anche, perché no, la vostra personalità Seconda categoria La chiameremo Too much is not too good Troppo non significa troppo bello E qua mi riferisco a tutte quelle volte in cui ci siamo riempiti di qualcosa Ad esempio quando ci riempiamo di accessori E mettiamo orecchini vistosissimi Collane 3 o 4 Anelli su tutte le dita Too much is not too good Riempirsi di cose Significa tante volte andare a schiacciare quello che è il nostro stile Quello che è la nostra eleganza Quello che è la nostra personalità Immaginatevi quando ci trucchiamo con un trucco too much Con un trucco fortissimo E ci trucchiamo tantissimo gli occhi e tantissimo la bocca L'effetto non è sicuramente quello elegante Non è sicuramente quello stiloso Ma è un po' quello diciamo così volgare O quello che davvero risulta essere proprio troppo Quel troppo che stroppia Pensiamo a quando ci riempiamo appunto di gioielli E sembriamo Madame Bijoux Tutti pieni zeppi Magari abbiamo anche il cappello Ci riempiamo di accessori Completamente pieni di accessori O pensate quando ci riempiamo di vestiti Io non so voi Ma a me è capitato tante volte Anche durante la settimana della moda Di trovare persone che avevano Tantissimi vestiti Ovvero magari avevano gli stivali a gamba alta Con dentro i pantaloni Con sopra la gonna Poi avevano la camicia che sbordava fuori Il maglio Il gilet che era sotto la camicia Il maglione Il giubbetto Il giubbino Il sopra giubbino col cappuccio Insomma esagerare Può essere come dire L'espressione di un momento Ma quando lo facciamo consapevolmente Ovvero quando consapevolmente Scegliamo di dare di noi Quella immagine Che però è molto lontana Dallo stile e dall'eleganza Però noi siamo consapevoli E oggi vogliamo dare Quell'immagine lì che è Too much Ma attenzione a non confonderla Con un'immagine stilosa Un'immagine che possa essere Portatrice di stile Un'immagine che possa essere Portatrice di eleganza La terza categoria E secondo me È una delle più importanti E meno prescindibili E soprattutto La categoria più personale Delle tre È proprio quella che Riguarda la nostra personalità Il fatto di voler assomigliare Alla start al dei tali Alla blogger Alla vlogger Alla youtuber Alla instagrammer Alla cantante O anche al maschile Ragazzi questo va bene Sia in un senso che in un altro Non ci permette Non ci consente Di esprimerci al 100% E quindi ci toglie In stile O anche il fatto di seguire Troppo le mode Per esempio Vi faccio un esempio Veramente molto basico Siamo in un periodo In cui va tantissimo di moda Il fluo Se a te stanno bene I colori neutri E ti riempi di fluo Non solo Non vai a valorizzare La tua persona Nel senso che magari Tu hai una palette Di colori Che ti valorizza Quando indossi I colori neutri Ma addirittura Vai a risultare Fuori luogo Nonostante Il tuo stile Stia cercando Di ricalcare I canoni Della moda E dei trend Di quella stagione Per quanto riguarda La personalità Non bisogna intenderla Solo ed esclusivamente Come Mi piace quello Quindi lo indosso Con personalità No Io ho capito Che tante volte Mi piacevano delle cose Ma Su di me Risultavano Stonate Non capivo Come mai Ma non riuscivo A far funzionare Quegli outfit Non riuscivo A far funzionare Quegli accessori Non riuscivo A far funzionare Quei colori Per esempio Io ho una passione Smisurata Per tutto quello Che sono le tonalità Dei neutri Quindi il rosino neutro Il rosa cipria Lo sciampagnino Il marroncino Il color paglia Il color cammello Così Su di me Uno schifo Quindi anche Nell'annata In cui andavano tantissimo Questi colori di moda Io avevo il cappottino Color cammello Che andava tantissimo Su di me Era veramente Un pugno in un occhio Perché? Perché ho capito Pian piano Andando avanti Con l'età E soprattutto Con l'esperienza Che ho fatto Con le esperienze Che ho fatto Che ci sono certi colori Che mi valorizzano E certi colori Che invece mi sbattono Tantissimo Mi sbattono completamente Quindi Ho cercato Di individuare Quelli che sono i colori Che mi valorizzano E scegliere A seconda dei trend A seconda Delle mode Ma soprattutto A seconda di come mi sento io Se utilizzare un colore Oppure un altro Oppure un altro ancora Nel mio caso I colori Che vi posso indicare Come assolutamente Eleganti E ricchi di stile Sono i colori Che comunque All'interno di una palette Come la mia Che ha una palette Da Se fate armocromia Lo saprete Da inverno brillante Sono tutti colori accesi Però è normale Che io non mi vestirò Mai di arancio acceso Oppure di viola acceso Perché a me non piacciono Non li so portare Ma certamente Soprattutto Per quanto riguarda Lo stile L'eleganza E far breccia Far colpo Utilizzerò I neri netti I bianchi ottici I rossi Ferrari Questo anche nel make up E' anche vero Che nel make up Nel momento in cui Io magari decido Di realizzare Un fortissimo smoky nero Sugli occhi Non mi metto anche Il rossetto rosso Perché sennò Ricadiamo nella regola prima Che too much Is not too good Quindi cercare di bilanciare Quelli che sono I colori che ci valorizzano Per esempio Nel nostro stile Quindi cercando Di mantenere Uno stile equilibrato Dove vai a valorizzare Una parte E nello stesso tempo Tiri indietro dall'altra O viceversa La personalità Si compone proprio Di equilibrio Un equilibrio Che non può Essere dettato Da regole generali Ma un equilibrio Che devi trovare tu A seconda della tua fisicità Quindi a seconda Delle tue giuste misure A seconda Della tua personalità Una personalità Timida Con colori accesi Come per esempio I fluo O i rossi O i fucsia Difficilmente Viene fuori Una personalità Accesa Tutta esuberante Tutta Stravagante Con dei colori Neutri Difficilmente Verrà valorizzata Quindi a seconda Anche della tua Personalità Del tuo stile di vita Del tuo stile Di relazioni Con gli altri Dovresti imparare A scegliere Ciò che ti valorizza E ti rappresenta Di più Ricordiamoci sempre Che ogni cosa Anche quando Sembra too much Diventa too much O non too much A seconda di come Noi la indossiamo O la portiamo O la esprimiamo Ed è qui Che entra in gioco Il fattore personalità Vi faccio un altro esempio Se una scollatura vertiginosa Può sembrare too much Oppure può sembrare smisurata Se la indossiamo magari Con una tuta Pantalone palazzo Quindi una tuta Che magari copre Questa parte E poi finisce Con dei pantaloni palazzo Che arrivano fino a terra Risulta sicuramente Meno volgare Rispetto ad un vestitino Che per esempio È molto scollato Dalla parte davanti Con la schiena Magari anche nuda E la gonnellina Corta Raso Cia pet Quindi Saper valorizzare E saper dare Equilibrio Ai nostri punti di forza E ai nostri punti Meno forti Servirà A costruire Quella personalità Che ci distinguerà Da tutti E ci renderà A noi Padroni Del nostro stile E chi lo sa Magari anche Un esempio di stile Per le altre persone Ragazzi Io mi auguro Che questo video Vi sia stato un po' utile Vi abbia dato l'ispirazione Per i prossimi look E per i prossimi Stili Da utilizzare Nella prossima stagione Se è così Fatemelo sapere Con tanti e tanti Like di supporto Ma soprattutto Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Delle notifiche Per rimanere sempre aggiornati Sui prossimi video Che pubblicherò A me non rimane Che mandarvi un bacio E tantissimo Ma tantissimo amore A me non rimane A me non rimane A me non rimane